Piazza Gallupi 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 sportivo finito nel mirino degli inquirenti, ci sarebbero diversi indizi definiti dal GIP del Tribunale di Trani, gravi, precisi e concordanti, supportati anche da foto e video realizzati dai militari dell'arma in prossimità della zona di spaccio. Ci spostiamo di nuovo sul Gargano per andare a San Nicandro Garganico, dove i carabinieri questa mattina hanno sequestrato oltre 180.000 piante di marijuana. Coltivavano marijuana in un'area boschiva di circa 5.000 m2 di macchia mediterranea sottoposta a vincolo paesaggistico e abusivamente spianata, situata in agro di San Nicandro Garganico, nel Foggiano. Cinque persone con le accuse a vario titolo e in concorso tra loro del reato di coltivazione di marijuana sono state arrestate nelle scorse ore dai carabinieri della Compagnia di San Severo e dai carabinieri forestali del nucleo parco di San Nicandro Garganico. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno consentito di rinvenire circa 1.800 piante di marijuana distribuite su due piantagioni, che sarebbero state coltivate e manutenute anche grazie a efficienti sistemi di irrigazione dai cinque indagati identificati dai militari, grazie a prolungati servizi di osservazione e pedinamento in zona impervia. Sono più di 120.000 le dosi di stupefacente ricavabili dagli oltre 4 kg di principio attivo riscontrato dalle analisi di laboratorio condotte sulle piante, già pronte per essere lavorate e immesse sul mercato illecito per un volume d'affari stimato superiore a un milione e mezzo di euro. La direzione investigativa antimafia invece ha dato esecuzione al decreto con il quale il Tribunale di Bari ha disposto l'amministrazione giudiziaria nei confronti di due società di costruzione di Manfredonia. Siamo ancora nel Foggiano, nel corso dell'inchiesta che ha portato all'operazione antimafia Omnia Nostra era emerso tra le altre cose che le due aziende erano sottoposte alla protezione e controllo di un'associazione mafiosa operante sul Gargano da Manfredonia a Vieste attraverso una solida rete di alleanze e la penetrazione nel tessuto socio-economico dell'intera area. Le indagini della direzione investigativa antimafia hanno consentito di individuare solidi indizi idoni a ritenere che l'esercizio delle imprese fosse sottoposto all'assoggettamento dell'organizzazione malavitosa. Sequestrati invece 42 ettari e mezzo di terreni. Siamo sulla murgia della sesta provincia. Denunciati due coniugi che avrebbero tuffato la GEA, ovvero l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e l'operazione della Guardia di Finanza della BAT che ci racconta Antonio Gargano. Sei immobili di un'estensione collettiva di oltre 42 ettari sono stati sottoposti a sequestro preventivo dal comando provinciale BAT della Guardia di Finanza. Le strutture ubicate all'interno del Parco Nazionale dell'Altamurgia insistevano su dei terreni che erano stati abusivamente dissodati, scarificati e successivamente sottoposti a frantumazione meccanica delle rocce. Sotto i riflettori, un'impresa agricola di Spinazzola adottata anche una misura cautelare personale nei confronti dei vertici dell'azienda, vietando loro di esercitare attività imprenditoriale. La società che si occupa della coltivazione di cereali aveva percepito indebitamente aiuti pubblici destinati all'agricoltura, ottenuti individuando e sfruttando terreni di proprietà della provincia BAT situati in un'area vincolata. L'impresa infatti aveva chiesto i contributi economici nonostante un precedente sequestro dei suoli. Per dissodamento illegale i vertici aziendali hanno raggirato l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura, ottenendo i fondi pur non rispettando i parametri necessari per le operazioni agricole. Atrani invece si torna in aula per il caso della morte dello chef Felice Casale. Maria Fiorella. Una giustizia malata che fa arrivare alle conclusioni di procedimenti così gravosi e dimenticando completamente che ci sono famiglie che attendono la verità da tantissimi anni e continuano a stare nella sofferenza del ricordo di chi non ha più. Bisognerà attendere ancora. È stata rinviata al 5 febbraio 2025 l'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio nel processo relativo alla morte di Raffaele Casale. È un'agonia, ormai è diventata un'agonia. Non sappiamo nemmeno ancora le motivazioni perché il giudice si è astenuto. Oltre sette anni fa l'incidente che ha cambiato per sempre la vita della famiglia Casale, tra la perdita di un figlio e la ricerca della verità sempre troppo lontana dal Palazzo della Giustizia, secondo Papa Felice. Una istruttoria farraginosa, lunghissima, quattro richieste di archiviazione, un provvedimento granitico da parte del GIP che ha richiesto un provvedimento coatto degli imputati. Per la morte del giovane chef Raffaele, avvenuta nella notte fra il 15 e il 16 agosto 2016 in via Martiri di Palermo a Trani, lo scorso 5 agosto la giudice per le indagini preliminari Lucia Anna Altamura ha rigettato l'endesima richiesta di archiviazione del PM definendo l'imputazione coatta per concorso in omicidio stradale di Francesco Patrono, funzionario del comune di Trani e Ruppa del contratto di servizio con l'azienda di igiene urbana AMIU e l'amministratore unico dell'azienda all'epoca dei fatti Alessandro Guadagnolo. Forse questa udienza, qualora le indagini fossero state svolte in modo compiuto sin dall'inizio, si sarebbe dovuta celebrare già da qualche anno. Torniamo a parlare dei conti spiati perché l'inchiesta che ha coinvolto l'ex bancario Vincenzo Coviello ha travolto l'intera cittadina di Bitonto dove in molti, almeno sui social, difendono il loro concittadino accusando la stampa di gogna mediatica e davvero così lo abbiamo chiesto a loro. Ilaria Delbino Ha destato scalpore il caso del bancario di Bitonto che avrebbe spiato i conti dei big politici e non solo, dai suoi device, dalla filiale di Bisceglie in cui lavorava. È stato molto difficile tenere a freno questa mia curiosità compulsività, aveva scritto a luglio in una lunga missiva il 52enne Bitontino spiegando i motivi del suo gesto alla direzione. Adesso i fatti sono saliti agli onori della cronaca e dell'opinione pubblica. Bisogna avere tutti gli elementi necessari per poter giudicare. Forse fa parte solo di un suo vezzo, non credo ci sia altro sotto. Ha fatto male ad entrare nei conti correnti dove non era autorizzato ad entrare perché non è lecito come azione ma c'è da dire che la Banca San Paolo, un'impresa privata, ha già provveduto a risolvere il problema con il suo dipendente. Penso che si stia alzando un polverone inutile. No, ha fatto male. Scusa. Perché devi fare i c***o e vedere le cose degli altri? A quale è là? A metti in gale? Perché tu devi venire a me a vedere i c***o, tu c***o così. Ma dipende o no, perché è una cosa che comunque non andava fatta, sicuramente. Però il motivo principale, a quale scopo è stato fatto il suo discorso, insomma. Per ricatto, non lo so. Un'idea non me la so fatta, però è una cosa che non andava fatta, insomma. E non è giusto, non è normale spiare. La privacy è quella che è. Guardi che probabilmente è semplicissimo, diciamo, evidentemente accedere ai nostri dati riservati. Probabilmente mi chiederei come mai ho avuto la possibilità di spiare i conti e nessuno magari ai vertici se ne è accorto. Cambiamo argomento, andiamo in via gentile perché entra in vigore la legge regionale che istituisce il nucleo anticorruzione approvata in aula. È cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Gli 007 vigileranno sul corretto svolgimento dell'azione amministrativa proprio in via gentile. Intanto è polemica in commissione sul dirigente della sezione dedicata. Entra in vigore la legge che istituisce il nucleo anticorruzione in regione Puglia. Il Consiglio l'aveva approvata a larga maggioranza e il governatore Michele Emiliano ha promulgato la norma nelle scorse ore. Cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle era tra i desiderati del partito di Giuseppe Conte messo nero su bianco al momento dell'uscita dall'esecutivo all'indomani del terremoto giudiziario che ha portato nel capoluogo i commissari del Viminale chiamati a passare al setaccio la macchina per capire se ci siano o meno gli estremi per lo scioglimento. Esattamente come è accaduto per il NIRS, il nucleo ispettivo sanitario guidato dall'ex prefetto di Maria Antonella Bellomo, il nuovo gruppo di 007 si occuperà del controllo sul corretto svolgimento dell'azione amministrativa da parte di soggetti, articolazioni e strutture del sistema regionale. Insomma, un filtro contro corruzione e illegalità. Non a caso, tra le richieste del movimento, c'era stata anche quella di un assessorato a tema affidato a Viviana Matrangola. Se per questo mancherebbe il dirigente referente e in seconda commissione denunciano da Fratelli d'Italia sarebbe emersa la necessità da parte degli uffici di valutare i criteri di inconferibilità a capo del vincitore. In compenso un altro, assessore Arramo si è appena insidiato. Si tratta di Nicola Grasso, ultimo arrivato nella giunta barese di Vitoleccese per capire se sia più vicino il ritorno nei ranghi della maggioranza anche in Via Gentile. Bisognerà aspettare l'assemblea pentastellata di fine novembre. Più posti letto ma meno servizi dall'RSA ai centri per l'autismo passando per i presidi sui territori Fratelli d'Italia contro il governatore Emiliano sul nuovo piano ospedaliero presto anche un tour nelle strutture pugliesi da Via Gentile ci racconta tutto. Antonio Bucci. Noi gireremo gli ospedali come facciamo tutti i giorni questa volta pubblicizzeremo e porteremo insieme la stampa per far capire i vari problemi che ci stanno sul territorio. Più posti letto e meno servizi e così i conti sulla sanità pugliese non tornano. Vale per l'assistenza domiciliare l'RSA ai centri per l'autismo con poco personale la centrale del 118 nella BAT il cui emendamento sarà riproposto in aula e i bambini della provincia di Brindisi che nascono solo al Perrino e soltanto se non prematuri. Da Fratelli d'Italia contestano il governatore sul nuovo piano ospedaliero scollato dai territori senza reali alternative ai ricoveri spiegano eppure con quella che definiscono una gestione isterica tra pubblico e privato. Hanno parlato soltanto di numeri ma fatti seduti a tavolini ma non vanno mai in giro per l'ospedale a rendersi conto cosa succede al di fuori dell'ospedale perché chi fa veramente i sacrifici sono i medici che lottano tutti i giorni si aumentano i posti letti ma poi cosa succede? L'organizzazione di pronto soccorso gli screen i bambini autistici non si è parlato di nessuna cosa di queste situazioni nel riordino ospedale abbiamo il problema di carcere non c'è assistenza sanitaria nei carceri e neppure i nuovi ospedali sembrano rassicurare almeno sui tempi i nuovi ospedali se ne parla di una vita c'è l'esempio quello di Taranto che se ne parla dal 2013 crede che l'ospedale di San Catallo dico qui così stiamo tutti prima del 2026 non sarà aperto i lavoratori della Vingy Shows arrivano a Bari per far sentire la loro apprensione riguardo il futuro dell'azienda mentre in presidenza davanti alla regione Puglia si svolge il tavolo della task force lavoro convocata da Leo Caroli proprio la task force occupazione da Barletta a Bari ci racconta tutto Maria Fiorella il giorno in cui i lavoratori della Vingy Shows di Barletta conosceranno il destino della loro azienda è arrivato all'esterno del palazzo della presidenza della regione Puglia in attesa dell'inizio della task force presieduta da Leo Caroli i lavoratori hanno accolto con un applauso il patron dell'azienda calzaturiera colui che per oltre 40 anni ha assicurato un lavoro regolare spiegano onesto e rispettoso un anno fa ossia da quando le redini dell'azienda sono passate ai figli dello storico titolare secondo quanto raccontano i dipendenti il calzaturificio è entrato in uno stato di crisi in ballo c'è il futuro di un centinaio di lavoratori noi chiediamo oggi all'azienda di dirci qual è il futuro di questa azienda e qual è il futuro di questi lavoratori che ormai da quasi due settimane stanno protestando per una vicenda che è inverosimile qualcuno non ci dà informazioni corrette i dipendenti della fabbrica dallo scorso 7 ottobre presidiano i cancelli dello stabilimento a preoccupare non è solo il mancato versamento ai fondi di previdenza complementare delle quote del TFR da parte dell'azienda ma anche la vendita di tutti i cespiti immobiliari da parte della SRL ci siamo ritrovati a scoprire la vendita addirittura tramite un atto notarile dell'opificio siamo preoccupati per queste 100 persone innovazione PMI sostenibilità trasporti finanziamenti e start up di questo si è parlato nella tappa barese dell'innovation days l'appuntamento del gruppo il sole 24 ore di confindustria giovani dedicato alle imprese innovazione sostenibilità i driver scelti dalle imprese pugliesi le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale dal deep tech il trasporto aereo e supporto della crescita del sistema economico regionale la leva del private capital e i finanziamenti dell'innovazione dell'azienda il sostegno all'imprenditoria giovanile femminile alle start up innovative l'accesso al credito delle PMI per accrescere produttività investimenti e fatturato di questo si è parlato nella tappa barese dell'innovation days la manifestazione organizzata dal gruppo il sole 24 ore in collaborazione con confindustria giovani i massimi esperti della regione i player e gli stakeholder si sono confrontati su una serie di temi che riguardano l'innovazione tecnologica e i processi produttivi all'avanguardia tanto che secondo l'indice dell'economia e della società digitale il 70% delle piccole e medie imprese ha un'intensità digitale di base sopra la media europea che è del 69% superiore di un punto anche a quella delle francesi esistono tuttavia ancora ampi spazi di miglioramento le imprese che crescono sono quelle che investono in innovazione e internazionalizzazione innovazione e ricerca ci sono tutta una serie di strumenti finanziari e di opportunità che le imprese possono cogliere per puntare sulla crescita per puntare sull'innovazione e sulla ricerca ci vuole una forte abnegazione e un grande impegno da parte di tutti per poter raggiungere dei risultati che oggi fanno della Puglia una tra le prime cinque regioni in Italia come destinazione a Bari invece PrestiPay presenta novità sul sistema di cessione del quinto in collaborazione anche con la BCC San Marzano vediamo come funziona questo servizio con Domenico Brandonissio la cessione del quinto vista come un'opportunità di sviluppo e di inclusione finanziaria presentato il progetto pugliese targato PrestiPay un'opportunità anche per venire incontro alle esigenze delle imprese facendo leva su un sistema che funziona è un finanziamento che verrà distribuito a condizioni competitive e al fine di essere appieno una forma concreta anche di inclusione finanziaria come nel DNA delle banche di credito cooperativo che potrà servire anche quei clienti che potrebbero avere difficoltà di accesso al credito proprio grazie alle sue peculiarità operative in questa regione nei primi sei mesi dell'anno sono stati erogati complessivamente quasi un miliardo di prestiti personali da parte dell'intero mercato e circa 225 milioni di finanziamenti contro l'accessione del quinto e quindi sicuramente è un mercato potenziale decisamente attrattivo i pugliesi che vantaggi hanno rispetto agli altri i pugliesi sono non particolarmente indebitati rispetto al resto dell'Italia ma ancora di più al resto dell'Europa è una regione tutto sommato che sta superando il periodo post-covid con certo le difficoltà le abbiamo avute le hanno avute tutti ma si stanno superando vediamo che la popolazione pugliese ha reagito molto bene al post-covid e sicuramente i dati già del 2024 dal punto di vista economico sono positivi parliamo adesso del caso dell'emergenza abitativa a Biceglie nei giorni scorsi a schiarire a rischiare scusate di finire per strada una mamma con i suoi figli tra cui uno diversamente abile arriva l'intervento del comune sul quale ci aggiorna Andrea Catino poteva essere una storia dal finale cupo quella di una famiglia bicegliese con un figlio disabile che ha rischiato di finire per strada a pesare uno sfratto per morosità che avrebbe potuto lasciare la mamma con i due figli senza un tetto sotto cui dormire interessati alla vicenda già da tempo i servizi sociali e l'assessore a ramo del comune di Biceglie grazie ad un bando per le emergenze abitative pubblicato dall'amministrazione della città del Dolmen il pericolo sarebbe stato momentaneamente scongiurato in città come la nostra come Biceglie che è una città turistica che si affaccia sul mare è sempre meno frequente la possibilità che le case vengano resi disponibili per le locazioni di lunga durata noi interveniamo nell'emergenza con alcuni strumenti strumenti che ci vengono messi a disposizione dall'ambito sociale di zona trani Biceglie quindi per esempio penso al pronto intervento sociale e alla casa alloggio che esiste sul nostro territorio dove possiamo collocare in via d'urgenza temporanea i nuclei familiari che versano in condizioni di emergenza abitativa poi però dobbiamo provare a trovare delle soluzioni strutturali più a lungo termine e il bando ci consente nel nostro piccolo di provare a dare un piccolo aiuto alle famiglie che sono in difficoltà da questo punto di vista il caso che è venuto alla cronaca in questi giorni in realtà è un caso complesso che vede anche altre sfaccettature è un nucleo familiare in carico ai nostri servizi già da oltre un anno per altre questioni la questione dell'emergenza abitativa abbiamo provato in un'interlocuzione che si è avviata in questi giorni abbiamo provato appunto a risolverla anche facendo ricorso a questo a questo bando c'è l'impegno da parte della mamma di provare a trovare una nuova casa in locazione e noi come comune l'aiuteremo nel pagamento appunto del deposito cauzionale parliamo adesso di mafia e giovani perché Donciotti da Bari ieri ha lanciato l'allarme troppa violenza e si sta normalizzando il crimine sentiamo la normalizzazione della violenza è la minaccia più pesante che incombe sulle nuove generazioni con il passaggio dal crimine organizzato al crimine normalizzato Don Luigi Ciotti fornisce attraverso poche parole ma incisive il quadro di una rapida regressione nella quale sta sprofondando la società contemporanea il referente di Libera è stato ricevuto a Bari dal sindaco Vito Leccese per aprire una finestra importante sul disagio giovanile c'è un sistema violento uno dei grandi problemi è la violenza anche culturale linguaggi modalità immagini che ci circondano noi siamo passati anche nella percezione degli italiani ma di tanti dal crimine organizzato mafioso al crimine normalizzato una delle tante cose così il gioco d'azzardo così la droga così l'ecomafia così l'acromafia diventa una delle tante cose in realtà non è una delle tante cose non solo violenza c'è anche l'allarme sull'elevato consumo di droghe c'è un mercato delle sostanze che è impressionante ma la prevenzione non si ne parla quasi più non si fanno più quei percorsi che magari per anni si sono fatti ad esempio all'interno delle scuole siamo amaramente in Europa l'ultimo posto per la povertà educativa abbiamo veramente un numero di giovani che non studia più non trova lavoro o tutto precario infine una speranza ma che passa attraverso un percorso di responsabilità civile sociale politica e istituzionale che abbiamo bisogno di cambiamenti veri la questione giovanile è un problema molto serio le persone scolastiche è un problema serio le prospettive dei nostri ragazzi è un problema serio questa è una società che si preoccupa ma non se ne occupa a sufficienza vediamo con gli spettacoli 19 concerti nel segno della sperimentazione edizione numero 39 per Time Zones che quest'anno rischi di avere il claim questi chi sono? 39 anni nel segno della sperimentazione sperimentazione con una identificazione ormai precisa che anticipa i tempi e le tendenze musicali Time Zones è pronto a invadere con la sua musica spazi differenti del capologo pugliese dal centro alla periferia inanellando ancora una volta una serie di novità del panorama musicale come successo in passato con Kingdom's Convenience Patti Smith Lurid Gotham Project e Sakamoto un'edizione di Time Zones quanto mai variegata e tematicamente policentrica questa del 2024 intorno ad alcuni temi fermi con le nuove idee di musica classica la modern classical l'elettronica e il rapporto tra musica e letteratura il programma da 19 concerti propone all'interno di questi generi differenti tante declinazioni si parte il 14 ottobre noi manteniamo quella linea che ci ha caratterizzato sin dal principio l'idea di cercare soluzioni alternative a quello che viene proposto l'incipit di quest'anno è proprio questi chi sono che è una frase che mi rivolse a una professoressa universitaria quando noi presentiamo Caetano Veloso ad Artolinzie per la prima volta in Europa era l'89 e ci chiedevano ce l'hanno chiesto poi per Enaudi ce l'hanno chiesto per Sollima ce l'hanno chiesto per tantissimi musicisti che poi hanno raggiunto il successo anche questa edizione si conferta un'edizione ricchissima con tantissimi artisti poliedrica e policentrica diffusa in vari luoghi della città è tutto per questa edizione dopo la pubblicità invece le notizie da Taranto Brindisi e Legge Rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo